Attenzione al lancio, Novella appena entrato, Merelli che manca e Mausso al volo, riapre la partita, 22esimo della ripresa, segna da ex, seconda parte della stagione al Picerno, proprio lo scorso anno va segnato su rigore all'andata, quarto gol in carriera al Picerno, qui non si intendono, Novella e Merelli e Mausso ne approfitta, c'è anche il vento che ci mette lo zampino. Attenzione a Frisena, è entrato anche lui dalla panchina, cross e Zunno, rovesciata fantastica per Zunno, Marco Zunno fa 2 a 2, la rimonta della Messina sul pallone pennellato, splendida la rovesciata.